Perchè? Perchè sempre che persone sembrano incapaci di tenere a freno le emozioni? Cosa provoca questi gesti di rabbia? E' possibile controllare tali sentimenti? Perchè tanta rabbia? Perchè? 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 Perchè... sento che sei che s'entravo non si è non si è e non si è ma non si è e non si è ma non si è ma non si è L'espo, ti sento a te, l'espo, ti sento Colan di dolent, in tagli add my patience Parlema di guard la base a te In raggi add my body In raggi add my spasthi In tagli add my patience Sapti senti sentいただnehmen Capis headers senti sent tegen Ricorchi cabecano che fissano Ricorchi cabecano che fissano Se fissare riconquico ma cattane Quando penso nella istria io sono vero il bekista Ricorchi? Vato sera sera ora 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 ora